Il libro di oggi non si trova in commercio perché è stato pubblicato indipendentemente, cioè da indipendente. È un libro fondamentale, credo, che si dovrebbe trovare in tutte le case, soprattutto dove ci sono delle nuove generazioni che hanno bisogno di capire tante cose e che hanno bisogno di capire tante cose, soprattutto nell'arte italiana che è così ricca e così densa di grandi protagonisti. È un libro del 2020, allora io ho detto all'inizio di questo mese che suggerirò fino a Capodanno i libri da poter regalare a Natale e conservare nella propria biblioteca perché ne vale veramente la pena, ma non lo dico io, lo dicono le cifre, lo dicono i commenti, lo dicono le persone che già hanno in possesso questo libro. Il libro di questa settimana si intitola Sussine Pa Leonardo, che io direi con il mio egoismo attavico Sussine Pa Leonardo, ma sarà sicuramente Sussine Pa Leonardo, è firmato da Riccardo Magnani ed è appunto un libro stampato da indipendente, però sul web si trova, questo ve lo posso assicurare. è del 2020, è di maggio 2020, quindi è recentissimo, ha un costo di un libro normale, ma è un bel tomo, è un tomo pieno comunque di fotografie, di disegni, di 359 pagine, ecco perché no, ma soprattutto è quello che dice. Allora, è difficile parlare di questo libro, dico la verità e lo dico proprio a Riccardo Magnani, mi hai fatto un bel regalo, ma prima che io riesca a parlare di te sarà dura. Quello che vi dicono su Leonardo da Vinci e il Rinascimento può darsi che non sia tutto vero. Chi è disposto a mettere la mano sul fuoco che Leonardo sia veramente nato a Vinci il 15 aprile 1452? Che suo padre sia stato Ser Piero il Notaio e la madre tal Catarina, una popolana o forse una schiava della quale si sono poi perse le tracce? Chi è disposto a scommettere che l'America sia stata effettivamente scoperta il 12 ottobre 1492 da Cristoforo Colombo Allora, queste sono domande che vi dovrebbero solleticare sicuramente, perché qualche dubbio c'è già stato, ma qualche dubbio c'è. Perché? Perché il mio amico Riccardo Magnani si è posto tutte queste domande. Riccardo Magnani viene da Economia e Commercio, quindi c'entra poco con l'arte, ma poi ha scoperto nell'arco degli anni una grande passione per la lettura e l'interpretazione dei quadri e dell'arte rinascimentale in genere. Ha passato ore e ore giornate dentro musei e pinacoteche tra Milano e Firenze, Londra e Vienna e stranamente guarda rigorosamente tra il lago di Lecco e la Valtellina. Perché questo? Perché era la ricerca di nuovi indizi che potessero avvalorare le sue teorie su Leonardo. Perché lui ha delle teorie ben precise che scoprirete all'interno di questo libro. Allora, perché ho scelto Riccardo Magnani? Perché forse in questo momento è l'unico, e sottolineo l'unico, studioso di Leonardo credibile. È un uomo che passa le giornate a studiare le fotografie, a studiare le piantine, a studiare i particolari. Ecco, lui fa una lettura letterale, ecco, diciamo letterale, della tecnica, dei colori, dei giochi di luci e ombre. E poi cerca anche qualche significato allegorico, per esempio, che può essere rivelatore dei significati nascosti che l'autore aveva voluto dare all'opera, senza rendere esplicito il messaggio, per non incorrere in critiche. Anch'io non farò lo spoiler di questo libro, ovviamente, perché sarebbe veramente cattiveria pura. Ma Riccardo Magnani è veramente abile e esaustivo. Tanti dubbi sono sempre volati sulla Mona Lisa, sulla Gioconda di Leonardo. Bene, forse troverete una spiegazione in quest'opera innovativa, perché Magnani cerca di vedere ciò che non è stato raccontato. Però, però, suffragato, ovviamente, da date, riferimenti storici e letture consigliate, letture alternative di opere famosissime, per esempio. La ricerca di Magnani dura da oltre credici anni, quindi bisogna farlo. Cioè, chi scrive un libro non è che si alza la mattina e dice adesso scrivo un libro. No, no. C'è un'opera interna, qualche volta anche dolorosa e anche difficile. Bene, Magnani spazia dalla prima metà del XV secolo sino alla fine del XVIII secolo. Ha tirato via da vecchi documenti dimenticati tutto quello che poteva nasconderli, quindi la polvere del tempo. Il grande Leonardo era veramente un grande artista e scienziato ed è un personaggio che conosciamo tutti, che il mondo conosce, ma non così sottilmente come ve lo racconta Magnani. Ecco perché dico che questo Sosinepa Leonardo di Riccardo Magnani è veramente un libro da possedere, intanto da leggere piano piano, perché veramente le nozioni sono tantissime. Ci sono delle citazioni che Magnani ama molto, per esempio c'è quella di Goethe che dice niente è più difficile da vedere con i propri occhi di quello che si ha sotto il naso, e questo è vero, è vero anche nella vita quotidiana, quando cercate gli occhiali per esempio ce l'avete sulla testa, succede. Oppure quella di Antoine de Saint-Exupéry che dice l'essenziale è invisibile agli occhi. Questa è una frase che mi ha seguito per tutta la vita, me la regalò un mio amico di università con un bellissimo disegno fatto a carbone. Allora, Leonardo non è lato a Vinci, non il 15 aprile 1452, e non è stato il figlio di un notaio di una popolana. Non è stato quel personaggio strambo, geniale, ma qualcuno lo dice, inconcludente. Chi leggerà il libro si renderà conto che effettivamente è così, quindi non crederà più a quello che si dice normalmente. Quando dico che Magnani è il più autorevole studioso del genio italiano che era Leonardo da Vinci, non dico una bestemmia, ve lo posso assicurare. Quello che emerge dai suoi studi è un ritratto di Leonardo di tutto il periodo rinascimentale completamente diverso da quello che ogni studioso era stato in grado fino adesso di riconoscere. Vi costringerà sicuramente a rivedere tutte le vostre convinzioni. Allora, questo libro è pieno di colpi di scena, ovviamente, ed è anche molto intelligente. Le emozioni possono passare dall'indignazione al dolore, allo stupore, alla gioia, alla rabbia, alla soddisfazione di sapere. Chissà, chissà che cosa proverete voi nel leggerlo. Ricordatevi che il buon Leonardo era musicista, pittore, filosofo, ingegnere, architetto. Insomma, era tutto, no? E quindi noi abbiamo questo grande tesoro. Pensiamo di conoscere tutto di lui, invece no, no. Non lo sappiamo. Sembra che sua madre, questo ve lo posso dire, uno spoiler così piccolo piccolo, sembra che sua madre non fosse una popolana e non proveniva dai ceti bassi della società, ma era una nobile donna. E vi posso anche dire che Leonardo non è stato allievo del verrocchio. Bene, non vi devo dire troppo e di più. Mi piacerebbe potermi dire un pochettino, un pochettino, per esempio della Gioconda, che nota come Mona Lisa, lo sapete, che attira milioni di turisti tutto l'anno a Louvre, a Parigi. Ebbene, la Gioconda non è quella esposta al celebre museo francese. Mi direte, ma che cavolo stai dicendo? Oh, io vi dico che si tratta proprio di un altro quadro, ma non ve lo dico io. Ve lo dice Magnani e ve lo spiega anche. Oggi gli studiosi ritengono che la Gioconda sia stata dipinta da Leonardo tra il 1503 e il 1506 e sarebbe stata portata con sé in Francia, dove nel maggio del 1517 l'artista viene accolto dal re Francesco I col titolo di premier peintre, architecte e meccanissian du roi e una pensione di 10.000 scudi. No, 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 no. Ci sono dei particolari. Particolari, ecco, anche lì voglio fare un po' di spoiler, ma particolari che si riferiscono, per esempio, alla peluria delle sopracciglia della Gioconda, oppure le fossette sulle guance. Mamma mia, quante cose si scoprono all'interno di questo libro Sessi Nepal Leonardo dell'amico Magnani. Ma se il dipinto esposto all'Uvro non è la Gioconda, chi è? Non ve lo dico io, eh. No, no. Neanche in caso di guerra, neanche se mi pagate tanto. Vi dico soltanto di andare a leggere di Riccardo Magnani, Sessi Nepal Leonardo. Ed è difficile anche lì estrarre una pagina da leggervi, ma io questa ho scelto e spero che vi faccia piacere. Sia chiara una cosa, l'America non è stata mai scoperta. E non solo perché è sempre esistita come innegabile, ma perché prima che gli europei la raggiungessero, era regolarmente abitata, oltretutto da un popolo le cui conoscenze astronomiche erano di gran lunga più avanzate di quelle degli europei che la colonizzarono. Esistono sue rappresentazioni che risalgono almeno al mondo greco. Mi riferisco all'opera del grande geografo greco del primo secolo, Claudio Tolomei, alle cui rappresentazioni geografiche si rifanno tutti i più grandi cartografi rinascimentali. Parlare di scoperta dell'America, quindi, è già di per sé il risultato di una presunzione implicita di superiorità del mondo occidentale verso i nativi Amerindi, la quale, oltre che inesatta, è totalmente inaccettabile. Detto questo, e scusandomi per l'intransigenza con cui l'ho affermato, ma mi sembrava essenziale e comprenderlo se vogliamo ristabilire uno stato di tale pacifismo, nelle carte rinascimentali anche successive al 1492 esistono moltissime anomalie che vengono archiviate con troppa superficialità dagli storici e dai cartografi come rappresentazioni fantasiose, idealizzate, quando non sono etichettate come raffigurazioni necessarie a dare un equilibrio grafico all'intera rappresentazione solo perché considerate anacronistiche rispetto al corso della storia così come ci è stato imposto di assumerlo per vero. Quest'ultima giustificazione risibile riguarda spesso le rappresentazioni del continente artico e antartico che nel Rinascimento non si sarebbero potuti e dovuti conoscere per ovvi motivi. Una di queste mappe è la famosa proiezione a ottanti di Leonardo inclusa in una pagina del codice atlantico già menzionata in precedenza in quanto contiene una di quelle domande ossessive che l'artista includeva accanto ai suoi disegni riferita in questo caso proprio a una proiezione cartografica a cuore dimmi se mai fu fatto. La stessa pagina contiene in totale otto schizzi del globo terrestre studiati da Leonardo che vanno dalla proiezione planisferica conica di Tolomeo a quella proposta da Francesco Rosselli. Leonardo manifestò diverse volte di possedere delle conoscenze geografiche avanzate sia attraverso disegni e dipinti compreso un planisfero conservato in un palazzo rinascimentale del nord Italia che indirettamente attraverso menzioni inserite nei codici. Una di queste menzioni ricorrente riguarda un mappamondo di sua proprietà in mano all'amico Giovanni Benci. È il mio mappamondo che ha Giovanni Benci. Premesso di dubitare che il Giovanni Benci a cui si riferisce Leonardo sia il marito di quella Ginevra dei Benci che gli storici erroneamente vorrebbero essere ritratte da Leonardo nel 1474 propendendo più per l'amico Giovanni secondo Bentivoglio detto con inflessione emiliana Benci Voglio come anche negli stemmi familiari era indicato nella rocca di famiglia Bazzano in Emilia Romagna. Questo appunto denota come l'artista fiorentino avesse contezza delle rappresentazioni geografiche dell'epoca come peraltro testimonia un disegno attribuito all'allievo Francesco Melzi e conservato presso la Royal Collection di Windsor. Interessante Tratto da Sussi Nepal Leonardo di Riccardo Magnani che trovate tranquillamente sulla rete il suggerimento per un regalo di Natale interessante culturale perché no ma davvero davvero affascinante questo è il suggerimento di Barbara Marchand da Border Knights Buonanotte a tutti Allora la canzone che segue ha la musica di una canzone esistente le parole sono state cambiate prendendo spunto da alcuni fatti avvenuti in quel dell'Ecchese in questi giorni al seguito del professor Magnani e di taluni incontri alquanto ostini dello stesso Tempo di Tacco io sono un matematico in assoluto il mio pensiero è pratico non cedo ad illusioni non trovo diletto nelle convenzioni il mondo è regolato da rapporti ed equazioni confini e divisioni rispettano la nostra identità io sono un ingegnere sono analitico e poco sognatore possedgo del sapere delle nozioni sono assemblatore non credo che l'intuito possa riguardare la storia analisi e memoria riportano giustizia e verità con fede nella scienza e nei tabù ho speso la mia vita a testa in giù guardando il dito prima della luna indifferente perciò capisci bene che ora è giunto il momento anche per te di fare i conti con le ragioni e le leggi e seguir la corrente io sono un matematico il mio parlare perfino democratico sarò però imparziale e farò finta di essere cordiale mi porto via il pallone alle dodici oppure una riunione non voglio più ascoltare dovessi dubitare poi di me intanto io ho una cosa che non hai e non te la darò mai e poi mai l'invidia della gente lo potrebbe rovinare fu commissionato fu commissionato un tempo da un antenato ricco in quel di como l'ho messo sopra il letto il quadro del bugatto sarazan sarazan Grazie a tutti Grazie a tutti